Il stato naturale è che quando noi lavoriamo con il nostro pensiero primario e vediamo che grazie alla nostra felicità infinita, grazie a questo livello primordiale della nostra felicità, della nostra infinità, tutti diventano più giovani, più felici grazie a questo. Quindi dal livello primario, primordiale, parte l'intero infinito. E a questo livello non esiste il segnale di ritardo, per esempio, oppure il segnale rallentato, perché qua, a questo livello, siccome noi agiamo a livello, per esempio, dell'azione primordiale, della creazione primordiale e primaria, così qualsiasi azione favorevole qui, qualsiasi azione edificante, si diffonde nell'intero infinito immediatamente. Dopo che abbiamo integrato l'intero mondo in questa maniera, allora vediamo che questo per noi è una cosa completamente naturale, che ogni persona, così, ha il suo livello naturale della sua salute e giovinezza. E così, per esempio, i sistemi esterni, che esistono come sistemi che ci caricano, ci danno un carico in più, in realtà non dovrebbero portare all'esaurimento delle cellule. Anzi, così sia un sistema del mondo esterno deve essere un sistema che è favorevole per l'essere umano. Noi semplicemente, tecnologicamente, dobbiamo prendere qualsiasi livello, se, per esempio, questo livello è teso, non è favorevole, allora dobbiamo trasferirlo nella struttura di un'azione favorevole. E quando conosciamo il punto della creazione e ci troviamo in quel punto? Da qui dobbiamo concentrarci sul futuro, sul futuro che è infinito. Non è necessario di afficciare il nostro desiderio, perché il nostro futuro deve essere favorevole, deve essere edificante. E per quanto riguarda questo impulso, quindi il desiderio della norma, noi lo vediamo contemporaneamente dal futuro. E per quanto riguarda questo punto? E per quanto riguarda questo punto? E per quanto riguarda questo punto, questo punto è già arrivato dal futuro, quindi... E quindi, per esempio, se noi vogliamo vedere la norma, allora, per esempio, da quel punto, che si trova a 15 cm dal nostro corpo, vediamo l'impulso, per esempio, della norma, che parte, e contemporaneamente però vediamo questo impulso già... anche nell'infinito futuro. E quando impariamo, per esempio, le opere scientifiche di Grigori Grabovoi, contemporaneamente impariamo anche queste informazioni in cui, per esempio, l'impulso... edificante esiste sia nel presente, sia nel futuro. Perché noi stiamo sempre alle origini della creazione, vediamo che nel momento della creazione tutto è stato creato contemporaneamente all'istante, cioè è stato creato quindi... tutto è stato creato all'istante fino all'infinito. Tecnologia... nel presente, però dobbiamo contemporaneamente vederlo anche nel futuro. Quindi... questa è una tecnologia, questa è una... questa è una norma che si realizza contemporaneamente sia nel presente, sia nel futuro. E, per esempio, noi percepiamo questo segnale della norma nel futuro, sia nel presente che nel futuro. e poi vediamo che questa luce della norma nel futuro si connette quindi con il presente che deve essere normalizzato. quindi... quindi...